Ciao ragazze, ciao ragazzi, sono Federico Taddia e sono uno scrittore, anzi sono uno scrittore adottato da voi per questa iniziativa che si chiama Adotta uno scrittore. Avrei voluto venire a trovarvi perché così era l'idea, il progetto prevedeva tre incontri con la scuola, la scuola non c'è, sapete benissimo il perché state vivendo quello che sta accadendo e però abbiamo cercato un modo per comunque esserci ugualmente ed è il modo che utilizzate ormai tutti i giorni per le vostre relazioni, per le lezioni eccetera eccetera, che è quello del video che è un po' meno bello, un po' meno caldo, un po' meno divertente, anche un po' più noiosetto a volte perché insomma sarei venuto con molta gioia nella vostra scuola, ma questo è solo un appuntamento rimandato, no? In attesa di poterci vedere di persona, speriamo tra qualche settimana o qualche mese, nel frattempo l'idea è proprio quella di presentarmi, presentarvi il mio libro e fare amicizia o anche una mezza idea utilizzando appunto le nuove tecnologie che tanto ci aiutano. Allora mi presento intanto, allora sono uno scrittore ma non solo, faccio anche il giornalista, lavoro in radio dove conduco un programma su Radio 24, che è una radio che forse i vostri genitori conoscono perché è una radio molto ascoltata dagli adulti più che dai più giovani, soprattutto perché non ha musica, c'è pochissima musica, è proprio una radio di solo informazione. Pensate che ci lavoro ormai da vent'anni, quindi da un sacco di tempo, ho iniziato lì facendo un programma per bambini, per bambini più piccoli di voi, che si chiamava Pappappero, una cosa di cui vado molto fiero perché mi ha tanto divertito. Faccio anche televisione, sono un autore, che è quello che scrive i testi, però ho anche fatto diversi programmi in conduzione, insomma tutto ciò che mi permette di giocare con le parole cerco di trasformarlo in professione, questo è un po' il mio privilegio. So che qualcuno di voi mi ha letto su Topolino, sì, perché lavoro per Topolino, con Topolino, grazie a Topolino, da sempre. Pensate che è stato il mio primo lavoro, ero ancora studente all'università e ho iniziato a collaborare con Topolino, che era un mio grande sogno da bambini, no? Quando magari qualcuno a voi vi chiede cosa vorreste fare da grande, anche io rispondevo quello, rispondevo che mi sarebbe piaciuto scrivere su Topolino. Non fare i fumetti o fare i disegni perché sono una capra nel disegnare, non so fare nulla. E anche scrivere le storie non sono bravissimo. Mi piace proprio l'idea di fare gli articoli, le cose che ci sono in mezzo, dove puoi spiegare anche concetti complicati, oppure puoi raccontare storie di persone che fanno cose bizzarre o cose molto importanti o cose diverse dal solito. Ecco perché a me piace quello, piace poter raccontare quello che viene narrato poco. Insomma, faccio un sacco di cose, avete capito. Mi diverte questa cosa di poter fare tante cose, è un po' faticosa perché vuol dire che hai sempre la testa in movimento su mille robe diverse, però è un po' anche la mia antinoia, no? La ricetta antinoia, cioè non ti annoi mai perché quando magari hai lavorato tanto su una cosa dici, ecco ce n'è già un'altra che ti spiazza. E come ho detto, insomma, tutte hanno il filo conduttore delle parole. Alla fine, insomma, io mi considero un po' un giocogliere. Ma presenta il giocogliere quello che con tre palline le fa roteare? Io riesco anche con quattro, tra l'altro, perché con le palline sono bravo. Ecco, cerco di farlo anche con le parole, quindi metterle insieme, cercare di essere sintetico, di essere corretto e rigoroso, a volte anche di essere ironico, simpatico. Insomma, cercare di comunicare cose attraverso queste 21 lettere con cui puoi veramente fare un sacco di robe. E tra le cose anche i libri, libri per i più giovani, ne ho fatti diversi, molti di divulgazione scientifica. Questa parola divulgazione vuol dire che racconti cose della scienza, no? Quindi magari quello che faccio io di solito è lavori a fianco con gli scienziati, con le persone che le cose le sanno, cerchi di prendere il loro sapere e lo traduci in qualcosa di più complicato. Ma magari di questo ne parliamo in uno dei prossimi incontri. Ho scritto anche un paio di racconti e poi qualche manuale. Il manuale di solito è un oggetto, è uno strumento che dà delle istruzioni, ti dà dei consigli. Io ho visto, parlando di libri, vi ho visti distratti dalla mia libreria qui dietro. Vi piace? È finta, cioè è un telo che però mi serviva per coprire la luce e quindi ho messo questa finta libreria che mi sembra adattissima. È una bellissima scenografia per poter fare i video, però sono libri finti. Non posso dirvi di averli letti, cioè posso dirvi che ho fatto la doccia, ecco, poi mi sono asciugato con questi libri, questo sì, però mi piaceva, insomma, mi sembrava una bella, mi sento avvolto, sì, mi piaceva, mi sembrava lo sfondo ideale per questa lezione che poi lezione non è. Tornando al manuale, vi dice, i manuali sono libri che contengono solitamente dei suggerimenti, delle istruzioni, delle dritte, dei consigli, i manuali pratici, nel senso che sì, c'è la teoria, però poi offrono anche degli strumenti su cose da fare. E insieme a Pier Domenico Baccalario, che è un mio amico scrittore, lui è uno dei più bravi scrittori italiani per ragazzi, ha scritto romanzi bellissimi, abbiamo realizzato questo libro che si chiama Il manuale delle cinquanta piccole rivoluzioni, su me voi il titolo lo vedete probabilmente letto al contrario, credo, comunque fidatevi di me, c'è proprio scritto Il manuale delle cinquanta piccole rivoluzioni, edito dal Castoro, rivoluzioni per cosa? Per cambiare il mondo, appunto come cita il sottotitolo, con delle illustrazioni molto belle di Anton Jonathan Ferrari, che è un altro, anche lui è un'eccellenza italiana, con la sua matita fa dei disegni, disegni bellissimi. Edito appunto, ve l'ho già detto forse dal Il Castoro, che è una casa editrice, che tra l'altro in questi giorni di clausura forzata hanno anche lanciato sul loro sito, che è credo ilcastoro.it o qualcosa del genere, ma siete bravi a smanettare, magari lo trovate anche da voi. Stiamo lanciando un po' di sfide con dei video anche abbastanza stupidi, siccome sono rivoluzioni, quindi le facciamo da nascosti, io mi sono nascosto anche nell'armadio e c'è un video dove ho le mutande in testa e sono pulite, che è la cosa che tutti mi chiedono, però insomma ci stiamo divertendo, quindi se andate anche sul sito del Castoro trovate un po' di queste sfide quotidiane. Che cos'è il manuale delle 50 piccole rivoluzioni? Allora, l'idea era questa, era quella di raccogliere 50 azioni che tutti possono fare, ma è molto meglio, nel senso che il risultato è molto più bello se queste azioni vengono fatte da ragazze e ragazzi come voi, per cambiare il mondo. Cosa vuol dire cambiare il mondo? Vuol dire renderlo più bello, non solo più pulito, quello è importantissimo, ma vuol dire renderlo più amichevole, più sostenibile, più equilibrato, dove ci si aiuta a vicenda, dove non ci si guarda solo attraverso un video come stiamo facendo noi adesso, quindi non ci si parla solo attraverso i social, ma ci si incontra anche. Insomma, 50 piccole azioni per diventare migliori noi come persone, per far diventare migliori gli altri, che vuol dire i nostri familiari, i nostri amici, i nostri vicini di casa, le persone che incontriamo, e anche per rendere migliore il pianeta, il pianeta di cui ha bisogno tantissimo di azioni concrete in questo momento, perché al di là del coronavirus non dimentichiamo che comunque il pianeta ha i suoi problemi ambientali, i suoi problemi legati al cambiamento climatico, e quindi delle nostre piccole azioni possono davvero contribuire per fermare questo cambiamento, per mitigarlo, si dice, quindi per renderlo minore. E ci siamo ispirati ai rivoluzionari. I rivoluzionari per noi sono persone che, allora, il rivoluzionario non è uno che non sta alle leggi, quello è il ribelle, cioè il ribelle è quello che per natura qualsiasi cosa tu gli dica, lui dice, no io questo non lo faccio, no non mi va bene, insomma il ribelle di solito non ci sta dentro, è polemico, insiste, comunque quasi non ti ascolta, perché comunque lui vuole rompere quello schema, vuole andare oltre. Il rivoluzionario invece è una persona secondo noi diversa, cioè il rivoluzionario è una persona che mira al cambiamento e sa che ci sono delle leggi, quindi mentre il ribelle a volte cerca di infrangerla con la legge, il rivoluzionario cerca magari di fare azioni che vadano a cambiare quella legge, se quella legge non la ritiene giusta o non la ritiene equa. E quindi ci siamo proprio ispirati alla figura del rivoluzionario, chiedendo a ragazze e ragazzi proprio come voi di fare squadra e fare proprio delle piccole bande, perché ci sono azioni che sono anche toste, no? Cioè ti mettono veramente tanto in gioco, quindi magari se sei da solo, a volte anche è complicato, invece se si è tre o quattro amici che ci si vede, ci si conosce, ci si fida a vicenda, diventa anche più bello, più facile, più incoraggiante fare queste azioni insieme. Sono azioni di che tipo? Alcune molto semplici. Guardate, la prima rivoluzione che proponiamo è una cosa che già tantissimi fanno e che sicuramente farete anche voi, che è quello di rinunciare alle bottiglie di plastica e usare la borraccia. Dite, vabbè, che cosa banale. È vero, ormai è una cosa banale, però non è mai abbastanza banale perché ancora tanta gente non la usa, però è veramente simbolica perché la borraccia, se ci pensate, contiene un sacco di messaggi belli. Cioè, tanto fa bene all'ambiente appunto perché usi meno plastica. La borraccia ti chiede anche la cura, cioè ti chiede l'attenzione. Cioè tu una bottiglia di plastica la prendi, bevi, metti il tappo e vai. Sì, molti di voi sono bravissimi, la buttano nel bidone giusto, tanti sono meno bravi, la buttano appunto per strada, però comunque è una cosa che, capito, la usi e la getti, si chiama proprio usa e getta. La borraccia invece, è come la borraccia, si può fare questa cosa con tantissimi altri oggetti. Tu la devi, tanto la devi preparare, cioè devi sapere dov'è, non la devi perdere, non devi perdere il tappo, devi riempirla se vuoi bere, devi cambiare l'acqua, devi riempirla, la puoi personalizzare, diventa proprio tua quella cosa. E quindi ci metti cura, che è una parola a cui io tengo tanto, perché prendersi cura di se stessi e degli altri nel pianeta è quello, è quello che un vero rivoluzionario fa. E da questa, che è molto banale, molto semplice, ci siamo inventati però tante altre azioni più ficcanti. Ci sono alcune che proprio a me piacciono. Per esempio quella che abbiamo suggerito, che magari in questi giorni è difficile da fare, però insomma si può magari anche fare via telefono, con cose semplici tipo la videochiamata su WhatsApp, si può aiutare il nonno o la nonna. Insomma di fare un pronto soccorso informatico per aiutare i nonni, le nonne o gli anziani in generale a usare appunto il computer. Cioè voi siete bravissimi a smanettare. Allora perché queste competenze non le insegnate ai vostri nonni. E allora ci siamo proprio ideati questa cosa, questo pronto scorso informatico che si può aprire, che ne so, all'interno del condominio, in un quartiere. Proprio con l'idea che una volta alla settimana, che ne so, il martedì dalle 16 alle 17 ci sono dei ragazzi rivoluzionari qua a disposizione per rispondere alle vostre domande. Come si manda una mail, come si usa Skype, come posso fare se voglio fare una lettera e la voglio salvare perché magari poi la voglio rileggere prima di inviarla a un nipote o un figlio o un amico. Come posso andare su Facebook a cercare i miei amici di un tempo se sei un pensionato. Insomma questa idea per esempio del pronto scorso informatico racconta tanto dell'idea del nostro libro. Oppure chiediamo di istituire la giornata del sorriso, quindi un giorno dove, sì, dove appunto, dove sorridi, sia dove guardi una persona e sorridi. Adesso in casa forse, no, siete chiusi in casa con i fratelli, sorelle, genitori, viene più complicato. Però intanto iniziate da loro, iniziate a svegliarvi e fare un bel sorriso di saluto a chi vi vuole bene. Poi un sorriso può essere disegnato, può essere fotografato, può essere mandato via Whatsapp o via Skype, può essere spedito a un amico, può essere spedito a un nonno, può essere spedito anche a un insegnante. Un'altra rivoluzione per esempio che chiediamo di fare è quella di entrare a scuola e chiedere a un insegnante come sta? Se ci pensate è una roba semplicissima, però mai, quasi mai si chiede a un insegnante prof, come stai? Prof, come sta? Come va? E questa roba spiazza un sacco i prof, perché non se l'aspettano, non sono più abituati anche ad avere questi gesti. Chiediamo un'altra rivoluzione di provare a non dire mai di no, che anche questa, wow, o comunque di non dire no a prescindere, no? No, no. Ci sono persone che chiedono un favore di fare qualcosa, voi no, 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 no. Il no mette un sacco di distacco. Provare a diminuire un po' i nostri no vuol dire poi andare incontro alle persone. Ve ne leggo un altro paio, poi insomma magari vi mando poi anche il libro e potete capire. La rivoluzione numero due, impara una parola per ogni paese del mondo, che è fantastico, cioè basta imparare una parola. Sono oltre 170, mi sembra, le nazioni nel mondo. È vero, alcune parlano la stessa lingua, però se si cerca una parola per ciascuna nazione, che vuol dire poi andare sul mappamondo, andare su Google Earth e vedere dov'è quella nazione, vedere cosa vuol dire quella parola, che significato ha in quella cultura, cioè vuol dire proprio viaggiare, conoscere, incontrare e facendolo proprio partendo dalle parole. Fate un selfie con i vecchietti, in questo periodo state lontane dai vecchietti perché hanno bisogno di stare da soli, dobbiamo difenderli, dobbiamo toccarli, guardarli da lontano, però appena potremo tornare in strada e incontrare un bel vecchietto, farci un selfie con lui, il sorriso o lo sguardo incredulo di un anziano da tenere come ricordo, che vuol dire creare delle connessioni, creare dei ponti, cioè vuol dire, tanto vuol dire magari scaturire un'emozione bella, di affetto, scatenare un piccolo sorriso, riso, insomma questa è la grande conquista. Ascoltare una vecchia canzone o leggere un libro, un vecchio libro, questa è una cosa bellissima che vi consiglio di fare con i vostri genitori. Chiedete che musica ascoltavano loro da ragazzi, loro vi stressano, vi chiedono che musica ascoltate, se vi beccano che ascoltate la trap, vi dicono che cos'è quella roba, li fa schifo. Ok andate a chiedere a loro cosa ascoltavano, alcuni di loro in qualche cassetto lo vedrete, magari in garage, nel solaio o nel loro studio, hanno ancora dei vecchi vinili, vecchi dischi di una volta, tirateli fuori, andate a vedere le copertine di quei dischi, chiedete ai vostri genitori di farvi ascoltare la loro musica, insomma diventa comunque un bel viaggio nel tempo, molto diverso. Ah poi questa è una dei miei preferiti, che è quello di fare una ricerca, attenzione, senza usare Wikipedia. Allora io non ho nulla contro Wikipedia, anche io l'utilizzo, vado a vedere che cos'è, solitamente ti danno una prima infarinata di quello che vuoi andare a conoscere, però è importante abituarsi al fatto che c'è altro oltre a Wikipedia. Cioè Wikipedia è un qualcosa scritto da altre persone, io non mi accontento di leggere cose scritte da altre persone, voglio andare oltre appunto. Fare una ricerca senza Wikipedia vuol dire andare in biblioteca, quando ci si può andare, non in questo periodo, vuol dire sfogliare i libri che si trovano in casa, ci sono ancora alcune case che hanno le enciclopedie, i dizionari, gli atlanti, e poi in internet non c'è solo Wikipedia, ci sono un sacco di altri siti, che vuol dire andare a vedere quelle che sono le fonti, non fermarsi a fare un copia in colla della prima cosa che si trova. Questa è una sfida che proprio vi voglio lanciare adesso che siete a casa a studiare. Provate a fare una ricerca, a fare un compito, a trovare una risposta a una domanda senza usare Wikipedia, ma anche a volte senza usare Google. Cioè cercate di essere creativi anche nelle vostre ricerche, andate alle fonti, andate a vedere dentro alle biblioteche, ci sono tantissime biblioteche online dove potete trovare altri libri. Insomma cercare di, visto che abbiamo più tempo adesso, è vero che questo più tempo lo si può usare guardando sulla serie in televisione, stando in chat con gli amici, videogiocando, però anche fatte queste cose ne rimane del tempo, che è veramente da sfruttare per apprendere nuove competenze. Ecco, quello che abbiamo fatto con il manuale delle 50 piccole rivoluzioni è questo, dare delle idee per diventare un po' migliori di quello che si è, per diventare anche diversi rispetto a quello che si è. Lo abbiamo fatto con questo libro che tra l'altro, ho quasi finito, è tranquilli. Tra l'altro, per ogni rivoluzione, per ogni rivoluzione, le rivoluzioni sono 50 appunto, adesso me ne cerco una che magari, per esempio questa dice, smetti di seguire la moda, che non è che uno deve dire, beh, perché? E io vi dico, allora, perché seguire la moda lo sappiamo? Io vi dico, provate per un giorno, per una settimana a non seguire la moda. Provate, perché è per mettervi la prova, per mettervi in gioco, vedere cosa succede, vi piacete di più, vi piacete di meno, capite che no, per voi la moda è proprio vitale. O magari capite che invece sì, la moda è un qualcosa, è un aspetto della vostra vita, ma poi prendete consapevolezza del fatto che non è così vitale, che si può anche vestire un po' come uno vuole, che magari la moda la imponete voi, la fate voi, perché il vero rivoluzionario è questo, è quello che vuole cambiare le leggi o comunque non ci sta alla legge del così fan tutti. Ecco, il rivoluzionario quando c'è un così fan tutti lui non ci sta dentro, vuole capire il perché, vuole diversificarsi, vuole vedere se quel così fan tutti è corretto o invece ci sono altre strade percorribili, ed è quello che abbiamo cercato di raccontare nel libro. Quindi ogni rivoluzione ha un titolo, ha un disegno, è anche un Jonathan, molto divertente a volte, questo ha fatto una moda un po' esagerata, vedete si è messo una foglia di ficco al posto dei boxer, dopodiché viene raccontata la rivoluzione, vediamo se riesco anche a voltare la pagina, perfetto, ancora con delle illustrazioni, e poi alla fine c'è uno schema, rivoluzione compiuta, dove vi facciamo fare un piccolo report di quello che avete combinato, cioè però nel rivoluzione ci sono un po' di domandine, vi chiediamo di darvi un voto, cioè per una volta non sono, capito, le insegnanti o gli insegnanti a darvi il voto, siete voi che vi autogiudicate, cioè siete voi che vi date un voto, sono stato bravo, non sono stato bravo, posso migliorare, eccetera, eccetera. E poi c'è uno schema con il valore della rivoluzione, quindi quanti punti valeva in disobbedienza, quanto in protezione, quanto fare per aiutare gli altri, quanto meno è meglio, perché il vero rivoluzionario è anche uno che sa fare le cose con meno, e quanta conoscenza ti porta, e poi la durata. E non solo, vi consigliamo anche dei libri da leggere, dei film da guardare sull'argomento, e alla fine ci sono anche un po' di biografie, cioè un po' di storie, di rivoluzionari che vi possono intanto darvi delle dritte su cosa significhi fare una rivoluzione. Ci sono personaggi fantastici, Rosa Parks, c'è Nelson Mandela, c'è Marie Curie, c'è Latouche che è un economista, insomma ci sono delle piccole storie di uomini e donne famosi, che però anche loro sono state ragazze e ragazzi come voi. Per capire appunto essere rivoluzionari oggi può portare a essere ancora più rivoluzionari domani. Insomma questo è il manuale delle 50 piccole rivoluzioni, per cambiare il mondo ve l'ho presentato, avrei voluto farvelo vedere e viverlo con voi, però adesso la cosa che mi piacerebbe fare è questa, vi ho detto un po' di cose, adesso magari mi metto d'accordo anche con la vostra prof per vedere se mandarvi qualche pezzo di libro da leggere, ma al di là del libro, se avete domande sui rivoluzionari, se avete domande su di me, se avete domande sulla professione dello scrittore, se avete domande su cosa voglia dire fare l'autore in radio o in televisione, insomma tutte quelle che sono le vostre curiosità sullo scrittore che avete adottato, che sono io, che sono Federico Taddia e potete prepararmi queste domande, me le mandate via messaggio vocale, cioè almeno non vi posso vedere ma almeno sento le vostre voci, mi mandate dei messaggi vocali via whatsapp, li mandate poi alla prof, vi mettete d'accordo come, la prof me li fa avere tutti e il prossimo video io lo faccio così, faccio ascoltare il vostro messaggio con la domanda, rispondo, faccio ascoltare un altro messaggio e rispondo, insomma così è un po' come essere nella vostra classe senza esserci, però insomma mi sembra una cosa abbastanza rivoluzionaria anche questa. Quindi grazie intanto per l'attenzione, spero di avervi incuriositi un pochino, spero che vi sia piaciuta la mia libreria, non cambierà, quindi anche il prossimo video avrà questa libreria con i libri messi nello stesso posto, ve lo garantisco, insomma aspetto un sacco di domande, ma anche se avete suggerimenti, critiche, insomma tutto quello che vi pare, voi iscrivetemi e io vi rispondo con il prossimo video in attesa di vederci nella vostra scuola. Ciao e grazie, ecco il dito che parte e va a spingere un po'. Grazie a tutti.